Cosa? Cosa? Anche stasera mi dai il bidone? Allora sai cosa ti dico? Che è questo e vado col primo incontro! Buonasera! Cogli l'attimo! Su Fiat. Supervalutazione dell'usato che vale 0 di 1300 euro, circa 2 milioni e mezzo di lire, più un finanziamento in 36 mesi a tasso 0, fino al 30 aprile. Cogli l'attimo!